musica 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 Ale fai un sorriso per la telecamera è partito ed eccoli qua i piccoli cinesi bastaldi eccoli qua e il piccolo cinesi e quindi siamo in partenza musica allora breve spiegazione di quello che faremo oggi adesso andiamo a fare l'azione poi partirà il nostro giro 19 km tendenza media 10% punti al 20 arriveremo a 2230 se riusciremo al netto di imprevisti costole spaccate eh dai eh dai c'è anche ogni buca ah ok musica ma ma non ma ma eccoci eccoci finalmente si riesce a pedalare dopo una salita lunghissima al 20% non 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 no non non che fanno i graffer sui pacchi Sì. Tranquilla, abbiamo appena fatto uno strappo della morte. Era tranquilla. Guardate che muro stiamo facendo. E guardate ancora cosa manca. BAM! Così. E io salgo come... sto usando come stampella questa stazionata. I ragazzi stanno per ripartire Ale. Lì, è... Là in cima c'è il gratter. La Silvia è finalmente contenta. Sì, finalmente. Siamo arrivati. Arrivati tutti. No, amato mi vorrei andare da sud. Sì, sì. È felice. È felice. È felice. È felice. È felice. È felice. È felice, perché è felice. È felice. È felice. governmentare! Quasi! i borghesi, i borghesi del bike breaking